Avvio di settimana in salita per le borse europee. Indiscrezioni e interrogativi sul braccio di ferro tra Deutsche Bank e Dipartimento di Giustizia americano affondano Francoforte e trascinano il titolo dell'Istituto di Credito tedesco ai minimi da 24 anni a questa parte. Maglia nera a fine mattinata a Milano, che appesantita dai bancari, perdeva oltre l'1,6%, appena più contenuto lo scivolone di Parigi, seguita da Francoforte sotto di poco meno di un punto e mezzo percentuale. A gettare scompiglio tra gli investitori il settimanale Focus, che aveva parlato di un rifiuto della cancelliera Merkel, a intervenire in favore di Deutsche Bank. La pronta smentita di governo e istituto di credito su una richiesta d'aiuti non chiarisce tuttavia come la banca gestirà la possibile sanzione da oltre 12 miliardi di euro nel contenzioso sui mutui Satprime.